Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nata nel 1985 sotto il segno dell'Ariete, Miriam Leone ha rischiarato il panorama dello spettacolo italiano con il suo inconfondibile talento e bellezza. A partire dal suo incoronamento come Miss Italia nel 2008, La Leone ha continuato a conquistare il pubblico e la critica. Uno dei ruoli che l'ha proiettata sotto i riflettori è stata l'interpretazione dell'agente di polizia Valeria Ferro nella popolare fiction Non uccidere. Dietro la macchina da presa si trovava Giuseppe Gagliardi, lo stesso regista che ha diretto La Leone nel dramma politico 1992. Recentemente, l'attrice ha aperto il suo cuore in una sincera intervista rilasciata a Vanity Fair. Oltre a parlare della sua carriera, ha condiviso gioiose novità personali, aspetta il suo primogenito. Il settembre precedente ha infatti unito il suo destino a quello del musicista e manager Paolo Carullo. Ma, come ogni medaglia ha il suo rovescio, La Leone ha parlato anche delle sfide che affronta. Ha confessato di lottare contro la sindrome dell'impostore, un disturbo che porta a chi ne soffre a dubitare delle proprie capacità. Non è la sola nel mondo dello spettacolo ad affrontare questa sfida. Nomi del calibro di Aurora Ramazzotti e Meryl Streep hanno ammesso di averlo vissuto. Tuttavia, la sindrome sembra solo rafforzare la determinazione di Miriam. Impegnandosi senza sosta, affronta ogni ruolo con la grinta e la passione di una vera leonessa. E le sorprese per i fan non finiscono qui. L'attrice sarà presto protagonista nel Leoni di Sicilia, adattamento del bestseller di Stefania Aucci. Uno dei fenomeni letterari più acclamati degli ultimi anni. Senza dubbio, con ogni sfida e successo, Miriam continua a brillare e a ispirare. Lascia in commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.